Ciao a tutti gli amici e ai fan di altalessigna.com Ho appena finito l'allenamento e mi sto preparando per le gare di questo weekend di Coppa del Mondo Domani ci sarà una sprint in tecnica libera e domenica una 10 km a tecnica classica Come potete vedere questo è lo stadio con l'arrivo e la partenza E questa è una salita E sicuramente domani la fatica la sentirò meno grazie alla tifoseria Che arriva direttamente dalla Lessigna da Bosco Chiesa Nuova E volevo ringraziare appunto altalessigna.com per il supporto che mi sta dando per questa stagione E sono sicura che terrò alto l'onore della Lessigna e la porto sempre nel cuore Ciao a tutti